Per il Governo la locale dipendenza patologica è una priorità e per questo siamo in campo per definire degli interventi di prevenzione, di promozione, di una vita libera dalle dipendenze patologiche e anche di inserimento sociale e lavorativo di tutti coloro i quali purtroppo hanno incontrato la problematica delle dipendenze patologiche. Quindi sono qui all'iniziativa proposta dalla comunità incontro per poter testimoniare la vicinanza del Governo e per anche fare un plauso a questa modalità di fare prevenzione tra i più giovani che mette le nuove tecnologie e l'innovazione a servizio di una vita sana e libera da ogni dipendenza patologica.